Ho mangiato il pene di montone, arrotolato su un bastone. Se poi finisce il mondo, cavoli no. Sì, magari non verrò subito ucciso, ma prima intubato per 50 anni. Esatto, esattamente. Di cose sessuali, diciamo, devo andare forse un po' più in qua, in Indonesia. Mamma, spero che tu mi stai guardando questo video. Questo è A Carte Scoperte, il podcast in cui tiriamo fuori dai vostri schermi i creator e gli artisti che amate e gli scopriamo le carte per vedere chi sono davvero dietro i filtri dei nostri tempi. Marcello Ascani, signore e signori, comincia la puntata di A Carte Scoperte. Noi stavamo già chiacchierando animatamente. Marcello Ascani, content creator, imprenditore. Insomma, content creator, inizialmente, con il suo profilo su YouTube, che adesso ha qualche centinaio di migliaia di follower. 700.000, 700.000 stabili, diciamo. Secondo me sono un po' a plateau, c'è più di quelli. Bisogna andare in inglese, bisogna andare in inglese, come diceva. Internazionale. E invece ha fondato da un paio d'anni, un annetto, l'azienda di influencer marketing, Flatmates, che anche ho sentito, sta andando benone. Sta andando benone. Ci si sbrodola, poi va male. Vabbè, l'ho detto io, ti ho sbrodolato io. No, sicuramente meglio di quello che mi aspettavo. Sta andando bene. Cosa ti aspettavi? Mi aspettavo che sarebbe stato, non dico un flop, però c'è comunque molto difficile. Io con i miei soci abbiamo fatto il business plan, quando siamo partiti. Comunque di chiudere l'anno è negativo, perché si parte comunque con un po' di investimenti, quindi di mettere un po' di soldi nostri. E invece abbiamo chiuso l'anno con un milione di fatturato. È comunque un buon utile, che comunque a fine anno abbiamo speso. Per cui a bilancio risulta un utile piuttosto basso, però perché abbiamo deciso di reinvestirlo. Un utile, un milione di fatturato al primo anno di una start-up, che non è tipo una roba da Silicon Valley, è tanta roba. Se fosse proprio una start-up sarebbe tanta tanta roba. L'agenzia, sai, io dico sempre che è come un tabaccaio. Specialmente quando discuto con i soci, perché magari iniziano a dire prendiamo investimenti, facciamo cose, io dico sempre che non facciamo niente rinnovativo. Ci sono altre aziende identiche alle nostre, ci sono agenzie pubblicitarie giganti che se si svegliano domani ci copiano e lo fanno uguale. Per cui noi dobbiamo essere bravissimi ad tabaccaio, secondo me. Quindi non è tanto l'investimento per la tecnologia, ma è tanto le persone devono essere bravi a fare quello che fanno, dobbiamo assumere bene, dobbiamo essere bravi a gestire i conti, bravi a gestire i flussi di cassa. Poi il messaggio dell'agenzia è molto finanziario, perché entrano tanti soldi e se ne vanno tanti soldi, perché in gergo viene pagato tutto, anche il budget media, che è quello che devi spendere, perché un attimo che se fai un passo a fazzo ti ritrovi il rosso, insomma, Nicolo è tipo il mio socio, bravissimo in quello, gli devo il non aver mandato tutto in frantumi all'inizio, perché io avrei fatto un casino. Ok, che non è male, insomma, se devi dovergli qualcosa questo è stato un buon aiuto. Allora, raccontami un po' nel senso, appunto, tu sei partito con YouTube all'epoca in cui, o in realtà dieci anni fa pure, però all'epoca in cui YouTube non andava di moda. Adesso i ragazzini vogliono fare il YouTuber da grandi, io ancora voglio fare lo YouTuber a 25 anni. Com'è cominciata questa cosa? C'avevi già un progetto in mente o hai cominciato come un po' tutti fanno? Vabbè, a caso, vediamo cosa succede e poi ti sei reso conto che effettivamente andava. Allora, io ho scoperto YouTube nel 2011, quindi proprio bambino bambino e 13 anni, e per me era già super cool. Cioè, tipo, io ho scoperto Cane Secco, come primo, e Will, Wish, Claudio di Biaggero, loro trepo, non c'era nessun altro, che faceva Freaks. Durante gli esami di terza media c'era Freaks, io me lo guardavo, quindi là ho detto, cavolo, sarebbe fichissimo fare lo YouTuber, era proprio quella roba che dicevo, cioè, chi guarda le rockstar io guardavo loro, nonostante in realtà fosse l'inizio. Cioè, tipo, mi ricordo c'era Richard HTT, che ora ha un milione di follower, al tempo ne aveva 10.000 precisi, e per me, sai, 10.000 o un milione era la stessa cosa, quindi io pensavo che fosse mega famoso, mega ricco, mega di successo, lo vedevo dal mio... e quindi dicevo, anche io voglio fare questa roba. Tra l'altro, anche se non andava di moda, MTV aveva già fatto un format dove andava a casa degli YouTuber italiani e l'intervistava. Io avevo aperto il mio canale, che è il mio e quella è l'attuale, è parto nel 2011, infatti, ma non ci ho messo niente. In realtà, con il mio compagno di classe del primo liceo, abbiamo messo dei suoi video che suonava il piano, tant'è che il canale si chiamava De Marcellemme. Quella roba poi è fallita, lui l'abbiamo ridicato, io ho lato tutti i video, e poi ho detto... Però non l'avete fatto come Muschio Selvaggio, avete fatto un paio di video botta e risposta? L'abbiamo fatto offline, l'abbiamo fatto offline, e poi ho chiesto con camera, ho detto, senti, io voglio fare il mio canale, posso usare il guscio del nostro vecchio canale, perché ha già 90 iscritti. Che comunque è calcato. Quindi cambio nome, si chiama Marcello Ascani e in secondo liceo voglio fare lo YouTuber. Perché? Perché io voglio fare pittore, in realtà. Comunque, dico, ok, devo fare qualcosa nella vita, tutte queste mie energie le riverso sul canale YouTube. Ricciò da HTT, faceva i video dove disegnava, faceva gli speed drawing, i tutorial, ho detto, anch'io voglio fare gli speed drawing. Faccio dieci mesi di speed drawing, super flop, nessuno mi caga, faccio i ritratti agli YouTuber come strategia, faccio il ritratto a Canesecco, mi condivido il video, faccio tipo 100 iscritti in più. Allora inizio a capire, inizio a ingranare un po', satura questa roba di ritratti, non funziona più, e poi la vera svolta è stata quando ho iniziato a copiare un altro YouTuber che si chiamava Domix, uno YouTuber americano che faceva cartoon animati. Io scopro questo programma che si chiama Adobe Flash, che adesso si chiama Animate, per fare animazioni. E facevo schifo, però nessuno lo faceva, il bello di non esserci niente su YouTube, e quindi da là è partito tutto. Io sono cresciuto grazie a questo format che si chiamava My Life is a Cartoon, dove con queste piccole animazioni raccontavo la mia vita. La prima volta che sono stato impegnato con una ragazza, come fanno i bambini di 5 anni, ma in maniera più credibile, è stato completamente inaspettato. E per tutte le superiore ho fatto questo, e poi da là si è evoluto quello che faccio. E poi quando hai deciso di farlo diventare un lavoro, nel senso quando ti sei riuso conto che stavi effettivamente anche cominciando un po' a guadagnare? Allora, che si guadagnasse non si sapeva all'inizio. Cioè, tu dici, non era cool, magari per me era cool, ma per gli altri non lo era. Gli altri YouTuber, io comunque mica lo capivo se guadagnavano, come guadagnavano, eccetera, eccetera. Poi tipo, c'è stato l'anno in cui, fa io magari dovevo in quinto liceo, i primi iniziavano a fare le prime marchette, però tipo erano super mal viste, c'erano proprio i movimenti di YouTuber contro chi faceva le marchette. Io guadagnavo un pochino con AdSense, quindi i guadagni diretti di YouTube, e in quinto liceo guadagnavo, secondo me, 100 euro al mese di media, che secondo me era un botto di soldi. Beh, per l'epoca comunque non era poco. Ma io mi ricordo il mio professore di filosofia mi chiese quanto guadagnavo su YouTube, perché lui è un canale YouTube. Adoro. E quindi tipo mi faceva un po' conto in tasca, e io dissi, per fare l'umile, io dissi no, beh, una paghetta, guarda che è molto di più una paghetta, io non lo so che è molto di più una paghetta. Quindi immaginavo potesse essere un lavoro, motivo per cui non mi sono iscritto all'università. Però in quel momento io tutte le mie energie le voglio dedicare a massimizzare la probabilità di riuscire a fare sta cacchio di cosa, anche perché nel frattempo alle superiori avevo conosciuto tanti YouTuber più grandi di me, che in quegli anni iniziavano a guadagnare, firmavano i primi contratti con le agenzie, con le cose, chi sono io per fare la stessa cosa, tanto ho i stessi numeri, ero un po' più piccolino, quindi le mie mail erano completamente sgrammaticate. E da là fai 2017 parto partita IVA, quindi 2016 mi sono diplomato, un anno di capiamo che sta succedendo, 2017 sono arrivati i guadagni stabili e quindi parto partita IVA, primo anno 20.000 euro, quindi abbastanza per dire un lavoro vero, e poi raddoppiando di anno in anno. Ah, ok. E avevi questo interesse, ovviamente c'era da un punto di vista artistico, però anche l'aspetto un po' imprenditoriale, ce l'avevi già o è una cosa che hai sviluppato nel corso del tempo e che poi oggi ti ha portato anche ad aver aperto un'agenzia? Allora, i miei sono papà dipendente e mamma casalinga, non sanno cosa sia un commercialista, non mi hanno proprio mai indirizzato sulla parte imprenditoriale, quindi io non sapevo cosa faccio il suo imprenditore, forse a 17 anni ancora non sapevo bene la differenza tra un businessman, un manager, un imprenditore, tutti sinonimi, no? E per molte persone ancora adesso sono tutti sinonimi, perché è una che va a vedere. Io ho letto la biografia di Walt Disney e quando l'ho letto ho detto che il mio sogno è fare animazioni. Volevo andare in California a studiare animazioni nella scuola che lui ha fondato e chi studia in quella scuola poi finisce a lavorare alla Disney o diventa, non so, John Lasseter che adorare la Pixar Cars, lui è andato in quella scuola, no? Poi hai scoperto che era antisemita e hai detto, ah no, vabbè. Non lo so se era antisemita, nel libro dicono di no, ma secondo me il libro è un po' una geografia, a rileggerlo adesso. Nel libro, no, però a ripensarci in quinto liceo, nei mesi, forse lui mi piace non perché era un animatore, lui poteva essere qualsiasi cosa, mi piace per quello che ha creato. E quindi io spesso penso se avessi continuato in quella strada magari adesso avrei il mio studio però di animazione, no? La mia agenzia. L'avresti preferito? No, no. Su me l'animazione è un lavoro molto tosto. E dimmi un po', da un punto di vista proprio invece imprenditoriale, che appunto è stata questa, cioè come è nata un pochino l'idea, ma soprattutto come hai fatto, siamo ragazzi giovani, nel senso ti sei buttato in questa impresa, ovviamente avevi un socio eccetera eccetera, però è una cosa non da tutti e soprattutto è una cosa anche che può essere impegnativa, c'è anche la possibilità di fallire, ci sono dei soldi in ballo eccetera eccetera. Quindi come sei riuscito piano piano a crearti un po' questa scaletta da solo? Hai avuto dei mentori o hai fatto tutto da solo? Allora, diciamo che io il pallino di fare l'agenzia ce l'avevo da quando facevo lo youtuber, anche per il libro, anche per Walt Disney, nel senso io quella roba ce l'ho sempre avuta. All'inizio non capivo come si facesse, quindi tipo a 18 anni, sai fuffa guru quella roba là che io critico molto, io c'ero cascato in pieno, pensavo che la Lamborghini, le cose, è durato poco fortunatamente, poi Francia mi bastonava, ma che cazzo dici? Quindi è durato poco quella fase là, mi è rimasto il pallino di fare l'agenzia, però in realtà fare l'influencer è mille volte meglio, comunque fare il creator è abbastanza bello e come dire, quello che guadagni rispetto a quello che rischi e quello che fatichi è molto di più rispetto a fare un imprenditore, secondo me, nella maggior parte dei casi, per cui io stavo bene a fare il creator e a viaggiare il mondo, poi c'è stata la pandemia che mi ha costretto a casa e ho pensato che adesso ho tempo di fare tutte quelle cose che non facevo prima perché ero preso ad affare il creator, non so quando si riprende a viaggiare, crisi mistica, una di queste cose era proprio l'agenzia. Siamo partiti di 50-50, loro avevano già un'agenzia pubblicitaria che non si occupa di influencer, proprio con l'obiettivo di non creare conflitti di interesse, tra l'altro in realtà più soci si è, peggio è generalmente, perché si litiga, però il lato positivo è proprio questo, è il fatto che generalmente se riesci a metterti d'accordo ognuno ha le proprie competenze. Comunque direi che una bella introduzione pesante, dobbiamo cominciare anche con le carte scoperte, allora queste qua, la prima categoria sono per rompere il ghiaccio, cosa che abbiamo già fatto decisamente, però andiamo un po', poi tanto sicuramente qualche altra domanda te la faccio, andiamo un po' a vedere con le prime domande, un po' anche cosa c'è dietro il businessman. Ok, pesca pure. Ne pesco una a casa o la prima? No, no, dalle prime. Dalle prime. Una persona che ammeri, io ho fatto la tesina di cui tu dicevo su Elon Musk, però non va più di moda essere fan di Elon Musk perché è un po' pazzo. Ultimamente diciamo si è preso un po' una strada abbastanza pittoresca. Sì, è un po' pittoresco, però in realtà col fatto che è molto meme, a me questi personaggi meme caotici e autodistruttivi mi piacciono, perché io so che io non diventerò autodistruttivo e caotico così, sono noioso, però vedere che gli altri lo fanno invece mi piace, quindi sai, diventa un uomo più ricordo del mondo. Molto catartico, certo. Molto catartico, quindi lui, devo dire, lui mi piace, in realtà anche l'altro uomo lucerto, Lamar Zagerberg, in realtà mi piace molto, mi sono scontato a tante interviste, è chiaro che è un po' nello spettro lui, però è foo, comunque è un genio e in genere tutti questi genietti mi piacciono, perché è proprio la stessa cosa, li ammiro così. Però io tendo ad ammirare le persone in generale, cioè io cerco, io mi innamoro molto delle persone, le biografie, le cose, poi mi lascio anche tempo per disilludermi, ok, però mi piace, no? Quindi, che ne so, ho letto il libro di Phil Knight, del Nike, come è che si chiama, L'arte della vittoria, c'è cazzo io ero il suo fan numero uno, poi un po' mi è passata, però tipo... Ok, quindi hai tante piccole cotte, hai tante piccole crash. Sì, c'è qualcosa da imparare ogni volta, esatto. A me, tipo, sai chi fa come me? Marco Montemagno. Ok, è stata assenza. Anche lui, io l'ho conosciuto e lui fa la mia stessa cosa, cioè, tipo, ti ripete per tutto il giorno la stessa citazione, tipo, il giorno in cui l'ho intervistato lui mi ha detto tutto il giorno, sai che Warren Buffett mi ha detto, ha detto che non importa quanto ti impegni, importa su che barca sei, e mi ha detto nel mio video, mi ha detto alla sua conferenza, mi ha detto a me dietro. Ok, certo. Io sono un po' la stessa cosa, cioè, se sono nel momento Mark Zuckerberg, ti parlo solo di lui, se sono nel momento Joe Rogan che ha intervistato il tizio, ti parlo solo di quella intervista là. Vai, vai, continua ancora. Continuiamo. La cosa più strana che hai mai fatto, le cose più strane sono relative ai miei viaggi, tendenzialmente, perché io, anche se adesso sembro proprio noioso, sono un viaggiatore, cioè io viaggiato tutto il mondo, ho fatto un anno senza mai tornare a casa, no, non un anno perché sono tornato prima, però comunque sono variati mesi fuori, anche prima del mio progetto viaggiavo e ne sono successe delle cose strane. Ho mangiato il pene di Montone in Cina. Com'era? E' buono, era molto gomoso. Molto gomoso. Mi ci ha portato un cinese a mangiarlo, prova questa cosa, prova questa cosa, era chiaramente un pene, faccio finta di non sapere cos'è, lo mangio, era un pene, ha rotolato su un bastone. Grazie risata per tutti quanti. Queste adesso invece domande spinose, un pochino più esistenziali. C'è un cactus infatti. Esatto. Esistenziali, ok. Provi mai senza di colpa? Sì, io sono un people placer, come si dice in psicologia, odio il conflitto, mi piace soddisfare le aspettative che gli altri hanno verso di me, quindi proprio costantemente senza di colpa ed è anche il motivo per cui faccio fatica a dire di no, quindi anche perché gli altri spesso non si fanno problemi invece a farti sentire in colpa, quindi è una cosa comune che adesso sono imparato a fare, ma all'inizio della tosta è di ridire i sponsor, che sembra una stupidaggine, ma magari, che ne so, ci sono delle contrattazioni che vanno avanti e dopo un po' ti rendi conto che sono troppo lunghe, magari non faccio più in tempo, oppure mi sono riuscito conto che l'idea effettivamente non è data al mio canale, prima di imparare a dire, scusatemi, è il mio diritto, ho capito questa roba qua, ci ho messo tanto perché magari loro rispondevano, ma così ci metto in difficoltà, ma io mi sono preso il tuo nome con il cliente o cosa, e loro lavorano, sono solo uno youtuber. Adesso, specialmente anche prendo l'agenzia, capisco un sacco di cose in più, chiedo dall'altra parte, ho molta più prontezza di dire, rispettatemi, non rompete le palle, e poi ho tanti sensi di colpa nei confronti della mia audience, perché so che non ci sto mettendo magari le energie quando non ce le metto, quando esce un video che per me non è perfetto, io non sono un perfezionista, per cui nessun video che esce per me è perfetto, però tipo, se è sotto una certa soglia, inizia a dire, cazzo, non volevo fare meglio. In che modo, anche se dovessi dare anche un consiglio a qualcuno, in che modo si può provare a migliorare su questo aspetto, a evitare un po' questa etichetta del people pleaser e imparare un pochino a dire di no? Nel mio caso, la gestione del conflitto. Cioè, tutto parte che io sono cresciuto in una famiglia di ammolino bianco, i miei genitori l'hanno maledicato, a me io venivo sgridato sempre in maniera molto stoica, quindi comunque venivo sgridato con l'obiettivo di insegnarmi qualcosa, cioè molto, raramente c'era proprio il conflitto si urla ai genitori, anche la mia adolescenza sarà molto tranquilla, non ho mai avuto quelle cose, quelle sfuriate, così, e quindi non ho mai però imparato a confrontarmi con gli amici o cui superiore e litigarci, no? E quindi piuttosto io do ragione, piuttosto faccio un passano alla direzione e mi annullo io. Questo non può succedere in tanti ambiti, cioè nelle cose importanti, tipo nelle relazioni amorose tantissime volte o nel lavoro, cioè questi sono i due aspetti. Quindi nelle relazioni amorose quello che ho imparato è che il conflitto lo gestisco così, le cose stupide e non importanti non lo gestisco, cioè nel senso evito il conflitto e continuo a evitarlo, perché non è importante. Nelle cose importanti ricerco il conflitto, quindi non che le dico apposta quando non c'è bisogno, però se c'è un motivo per ridicare lo faccio subito uscire fuori, perché denota che c'è interesse da parte mia, perché invece prima, cosa che mi succedeva spesso, io mantenevo magari la calma, facevo sempre buon viso, cattivo gioco anche sulle cose importanti e quello che il partner percepiva è che non sei veramente interessato alla relazione. Nel lavoro invece è completamente diverso, è semplicemente essere consapevoli di dove finiscono le cose che tu devi fare per forza e dove inizia invece quello che devi fare per te stesso e quindi devi dare più importanza a te stesso e il conflitto è andandoci attraverso. Infatti immaginavo, nel senso, litigando impari a litigare in una maniera sana. Sì, sì. Poi continuo io a tendere a… non è che io mi metto a urlare, il mio conflitto è sempre abbastanza parco, però specialmente adesso che ho anche dei dipendenti, dare il feedback negativo è abbastanza difficile, specialmente perché le persone si giustificano. Cioè se tu gli dici hai fatto una cazzata raramente, lui fa senza hai ragione, migliorerò. La maggior parte dei casi ti dicono perché è colpa sua, perché non ho avuto tempo, perché tu non hai dato tempo, allora tu devi avere la fermezza di dirgli no, queste sono le procedure, tu non le hai rispettate, non le hai fatte in questo momento, adesso devi migliorare e là si arriva sempre al conflitto, se sei il capo lo devi gestire per forza, altrimenti la baracca non rimane in piedi. Secondo me tante volte litigare aiuta il rapporto più di quello che uno si aspetta, invece per me era se litigo anche con una ragazza in maniera amorosa, boom, finisce tutto, questa è una macchia nel rapporto, invece non è una macchia, è una cosa importante. Bello, questo è molto importante da ricordare, assolutamente. Questi qua sono pensieri. Qual è la cosa più importante che hai imparato sulle relazioni interpersonali? In realtà abbiamo già praticamente risposto a questo. L'ultima è appunto, sono sul conflitto tanto, secondo me un'altra cosa che non si è applicata a tante persone è il fatto che è un secondo lavoro, cioè le relazioni interpersonali non sono quella cosa che fa da sottofondo nella tua vita mentre tu fai tutto il resto, ma sono un'attività in cui tu devi dedicare energie e se non lo fai non funziona. E molti dicono non voglio vedere la mia relazione come una cosa in cui sono costretto a mettere energie, no perché deve venire naturale. In realtà non è vera questa cosa. Tendenzialmente è proprio lavoro, cioè ci sono quelle cose dove tu devi mettere energie e se non ce le metti le cose non funzionano. Lo vedo tanto nella relazione con la mia ragazza, ma lo vedo un pochino anche con gli amici. Io ho pochi amici e quei pochi che ho potrei fare molto di meglio, perché è troppo facile poi dare spazio al lavoro e unire gli impegni lavorativi con gli impegni personali. E' una cosa che ti pesa, nel senso che ti manca qualcosa, perché il lavoro sta andando bene, è una cosa che ti riempie tanto. Una cosa è il lavoro, a meno che non sei un medico di Senza Frontiere in Africa, però una cosa è la vita al di fuori. Credi di star perdendo qualcosa al di fuori? La vita e il mio lavoro coincidono molto, chiaramente, anche perché non è che ho un lavoro appunto da dipendente con un ruolo preciso e stabile. Il mio lavoro è un percorso di crescita abbastanza legato alla mia vita. Quindi prima ero una cosa, ora sono un'altra, voglio fare quest'altra cosa. Le relazioni interpersonali extra lavoro sono importanti semplicemente perché serve qualcosa di disinteressato, servono delle persone che credono in me, a prescindere se il mio lavoro sta andando bene o male, perché quando sei sulla crescita di Londra, lo dicono tutti, sono tutti in rotta parte e poi nel momento in cui le cose vanno male tutti se ne vanno. Quindi qualcuno che ti apprezzi anche per le tue dati non lavorative è fondamentale. Però comunque sei contento che in questo momento la tua vita e il tuo lavoro coincidano così tanto? Sì, sì. Io faccio sempre il paragone con gli sportivi. Cioè se tu vuoi vincere il Wimbledon, te li devi tutti i giorni, giochi la tua vita a quello, più o meno la stessa cosa. E non è che stai facendo propriamente un lavoro, no? È proprio la tua missione di vita. Per me è un po' la stessa cosa. Cioè quello che faccio, io non è che mi sveglio la mattina e dico vado a lavorare, io ho tutta una serie di attività che posso definire lavorative, ma che io devo fare, voglio fare, è la mia missione. Cioè sento che le voglio fare. Che sia lavorativo o meno poi è secondario per me. Questa distensione è molto più importante quando poi ti relazioni con gli altri, secondo me. Certo. E qual è il tuo Wimbledon? Il mio Wimbledon adesso è Flatmates, assolutamente. È la gestione di Flatmates. Perché Flatmates è sicuramente la partita. Il mio Wimbledon qual è? È l'essere imprenditore, essere imprenditore, assolutamente. Ma appunto è più un aspetto economico, un aspetto di successo, un aspetto di vedere qualcosa di tutto che cresce, di sapere che quando avrai 60 anni sarai tranquillo, che avrai fatto le tue belle cose. Se vinci Wimbledon, se sei, che ne so, Djokovic ha accettato 60 milioni di soldi e venti sono in partite, ok? Quindi tu sai che se sei il numero uno di tennis ce la fai. La stessa cosa è se sei un bravo imprenditore. La differenza è che se sei un imprenditore spesso i soldi misurano anche il tuo successo, perché magari il fatturatore all'azienda, l'utile, sono proprio dei KPI per definire se stai andando bene o se stai andando male. Quindi quello è chiaramente un ruolo importante. A me piace pensare di star massimizzando le possibilità che ho. Nel senso che io penso di essere cresciuto in una famiglia media, non ricca, non povera, però molto amorevole, che mi ha fatto crescere bene e avevo tante possibilità davanti quando ho terminato la scuola. Mi sono detto dov'è che posso massimizzare le mie possibilità? Quanto lontano posso arrivare? Non mi piace l'idea di pensare che io non stia massimizzando queste possibilità. Vado a dormire e dico vabbè mi accontento. Però detto così sembra che vuoi il successo for the sake of successo. In una cosa che mi piace tanto. O era il disegno, quindi io dicevo vaffanculo divento Picasso, o erano i video, l'attività da youtuber. Ho scelto l'attività da youtuber che sia evoluta in quello che sta facendo adesso, tendenzialmente. Civil War. Queste qua sono categorie dove il mondo si divide a metà e oggi vediamo tu da che parte stai. va bene. Una tua unpopular opinion. Questa è più te contro tutto il mondo. Esatto. Io che ne so, per esempio io mi ritrovo sempre molto d'accordo col progresso tecnologico incontrollato e poco supervisionato. E mi preoccupo poco dei danni nel breve termine. Perché mi piace il caos. Ok. Che senso ti piace il caos? Nel senso che secondo me sul lungo termine la cosa che porta più benefici è regolamentare il mercato è meno possibile. Ok. Quindi avere poco intervento all'estate, sono molto liberista eccetera eccetera. Consapevole che questo... Consapevole che il mercato si autoregola ma in maniera inefficiente e lenta significa che le persone nel mezzo si fanno male e preferisco che la gente nel mezzo si faccia male. Tipo io sono super pro immigrazione, illegale e irregolamentata. Cioè per me tipo l'Italia dovrebbe essere invasa dai miglioramenti. Sarebbe un casino all'inizio in realtà ma a parte i vari studi dimostrano che sarebbe positivo sul lungo termine e poi è esattamente quello che serve all'Italia. C'è tante persone giovani, tante persone... chiaro che all'inizio è devastante, no? Certo. Però tipo anche il lato intelligenza artificiale quindi secondo te bisognerebbe proprio... Ah no no, la sì. Cioè se poi finisce il mondo cavoli no. Non è un problema. Ok. Io il lato intelligenza artificiale sono super... Non ti spaventa l'idea che qualcosa possa andare storto. Questo è ottimo per te perché appunto quando le macchine vedranno questo video sapranno che sei un alleato e ti lasceranno stare. Sì magari non verrò subito ucciso ma prima intubato per 50 anni e poi ucciso. Il basilisco di Rocco ti... Esatto. Vai, esperienze. Esperienze. Un'esperienza che ti ha cambiato. Diciamo quella iconica è fare gli scout secondo me. Ok. Tu anche mi hai chiesto la vena imprenditoriale. In realtà ancora prima ha scout che in realtà è un'organizzazione paramilitare. Ok, sì. Però sono anche molto cattolici. Quelli cattolici. E sono anche tendenzialmente di sinistra in realtà. Ok. Perché poi secondo me correla con... Cioè tanta gente di sinistra può fare scout. Tant'è che sono... Secondo te perché? Quali sono i valori magari che ti avvicinano? Ci sono alcuni valori cattolici, i famosi cattocomunisti. Sì, no? Sì. Quindi quelli in parte. E poi sai il contatto con la natura. Mettere quindi bisogno delle risorse. Un sistema comunque diverso da quello che conosciamo. Comunque fare scout a me mi ha formato tantissimo. Perché ho iniziato da piccolino. È stata l'unica esperienza in cui io potevo farmi i cavoli miei. Ero responsabilizzato già da super piccolo. Ed ero lontano dai miei genitori. Mi ricordo la prima uscita c'era sto zaino. Mi hanno messo sopra la roba e mi hanno detto ok, tutta questa roba la teni per 8 ore che dobbiamo camminare. 8 ore di camminata sull'Himalaya. Non erano 28 ma erano tante e comunque erano cambiate in collina. E io mi sono messo a ridere e pensavo fosse una battuta. Ed era vero invece. È stata un'esperienza bruttissima. E questo mi ha super formato. Anche a accettare la fatica, accettare il duro lavoro. All'inizio non c'erano altre esperienze in difficoltà. La scuola era facile comunque. Per me è solo un'esperienza formativa che mi ha cambiato il meglio. Altri pensieri? Vai. Adesso alziamo un po' il ritmo. Facciamo una speed run. Cosa significa successo? Difficile fare una speed run qua però ti voglio… No, no, ce l'ho. Anche perché chi mi conosce mi affibbia che per me successo sono soldi. Quindi in realtà assolutamente no. Io stimo chi raggiunge il proprio successo e non sempre sono i soldi. Può essere qualsiasi cosa. Successo è chi riesce a essere felice grazie alla propria realizzazione. Quindi c'è chi vuole vincere Wimbledon, c'è chi vuole avere una vita tranquilla, c'è chi vuole tutte le sfaccettature nel mezzo. Chi più ci si avvicina ha successo. Per me questa è la cosa. Tu sei felice? Io sono molto felice, chiaramente è sempre una maratona, ho successo nel momento preciso del tempo in cui mi trovo secondo me. Se fermo il tempo, faccio una fotografia di dove mi trovo adesso, mi sento che ho successo. Chiaro che ci vuole un attimo per capovolgere le carte. Però per ora direi che sta andando bene. Per ora mi sento molto di successo. Vai. Quali sono le maggiori sfide che vedi nella società moderna? La diseguaglianza. Non per forza andare a diminuire la diseguaglianza, ma sai che quella era la mia cosa contro… Proprio l'opinion. Vai, veniamone due allora. Io sono super pro diseguaglianza, secondo me l'importante nella diseguaglianza è che l'estremo basso sia sempre migliorato. Quindi non è vero che i poveri diventano sempre più poveri. I poveri diventano sempre più ricchi, se avete dei dati. E i ricchi sono molto più ricchi però. Questo è il problema. Questo non sempre è disfunzionale per una società. Non sempre. Molti teorizzano e dicono no perché poi ci sono le lotte di classe, poi c'è la… Non sempre così. Anche perché spesso poi i molto più ricchi redistribuiscono la loro ricchezza in maniera stupida. Comprendo cose idiote che però danno lavoro alla gente, tutta una serie di cose. spesso limitare i più ricchi nel farli diventare ancora più ricchi limita anche il diventare più ricchi dei più poveri. Quindi per me la diseguaglianza andrebbe ignorata. La gestione della diseguaglianza è una delle più grandi sfide della società moderna. Come gestiamo il fatto che c'è questo divario così grande, ma spesso è proprio questo divario così grande che va a far andare avanti la società. Perché poi chi è che sono le persone più ricchi del mondo sono quelle che hanno i capitali, che portano avanti le aziende, che offrono servizi e prodotti per le persone, che si formano… Però appunto se i capitali stanno continuando anno dopo anno a comunque raccogliersi, e anche questo ce lo dicono i dati, sempre di più nelle tasche, non nelle tasche, nelle mani di tante piccole persone che assumono sempre più potere. Perché nella società capitalistica ovviamente i soldi sono uguali al potere… Questa è un'altra sfida. Non solo i soldi, ma il potere che va dalle nazioni alle aziende. Per esempio, sempre parlando di AI, un tema molto interessante è che la ricerca nell'ambito scientifico dell'AI è tutta mano alle aziende, perché le università non hanno né le persone né il capitale per poter fare ricerca sull'AI, perché è molto costosa e servono tanti dati. Gli unici a poterla fare sono le aziende. Quindi le aziende si trasformano sempre di più in nazioni. Questo gli permette di avere veri e propri vantaggi su tutto il resto, tipo non pagare le tasse, tutta una serie di cose. Negli Stati Uniti addirittura le aziende possono proprio pagare, cioè fare lobbying pagando e finanziando i politici, quindi questo comunque è una problematica anche per la base stessa della democrazia, proprio in realtà con questa disuguaglianza che sta crescendo sempre di più. La democrazia in generale è una sfida che noi dovremmo affrontare nell'arco della nostra vita, perché la democrazia magari per come la viviamo adesso potrebbe essere un po' datata, no? Se ci pensiamo. Cioè andare a votare, tutti votano con questi pezzi di carta, è un po' strano. Votiamo una persona che ci rappresenta… L'alternativa quale sarebbe? L'alternativa sicuramente comprenderà l'utilizzo della tecnologia, quindi il fatto che da casa si possa votare, adesso non si può fare in Italia, è un ottimo strumento per permetterci di votare più volte e poter far votare più persone. E questo ci permette anche di votare varie cose e renderci meno dipendenti, per esempio, dalla guida di un semplice partito. La democrazia per come funziona ora, secondo me, ci spinge sempre nel populismo, no? Perché c'è la rock star che fa il politico… E la persona carismatica piuttosto che la persona… Non sempre poi, per farsi votare, sceglie magari quelle scelte che sono poi migliori, anche se noi non le sappiamo. Prima il latte o prima i cereali? Beh, questo è ovvio. Cioè, su me non è una lotta. Lo sanno tutti. Prima i cereali, poi il latte. Intervista finita per me, guarda. Terribile, terribile. Tu metti prima il latte. L'opinione più brutta che abbia mai sentito in vita mia. Ci hai mai provato a mettere prima il latte? Io metto sempre prima il latte. Tu bevi il latte. Tu bevi il latte con dei cereali sopra. Certo, perché il latte è buono e i cereali non si ammollano. Ah… Cioè, no, ne metto un pochino e poi ce li rimetto sopra. Io faccio più tornate, tu più… Sì, sì. È chiaramente più complicato e più difficile. Adesso stiamo per fare una rubrica bellissima e nuovissima che si chiamerà Lascia entrare a Scani. Ed eccoci qua. Ed eccoci qua nella rubrica in cui, visto che tu hai viaggiato tanto nel corso della tua vita e di sure, hai un sacco di cose da raccontare. Qui abbiamo una bellissima mappa molto antica, comprata stamattina, però antica, in cui tra l'altro è bellissimo. Ci sta la Jugoslavia e l'Unione Sovietica, quindi è bella vintage. Comunque, allora, in questa rubrica vogliamo un attimo vedere, racchiederti qualche aneddoto bello piccante, però lasciando decidere il caso. Tu lancerai una moneta sulla mappa dove cade. Ci racconti un aneddoto. Guarda, è piuttosto… Allora, Brasile? No, però sono stato in Sud America, se vogliamo farlo… Cioè, no, beh, c'ho tante aneddote di Sud America. Vai, raccontacene uno. Juan Fernandez, all'isola di Juan Fernandez, che è un'isoletta minuscola, a 700 km dalla costa del Cile. Sono stato un mese e mezzo nell'isola chiamata l'isola di Robinson Crusoe, perché è l'isola da cui si è ispirato William Defoe per scrivere Robinson Crusoe. Sono stato un mese e mezzo progetto per uno sponsor, però in realtà il progetto è stato il più bel progetto della mia vita, a prescindere da un sponsor, perché l'isola aveva 1500 abitanti, non aveva internet. Ah, che pace. E io ho portato internet. Letteralmente? Starlink, in aereo. Tu pensa che sono atterrato in Cile, nell'aereo abbiamo messo Starlink, in un aereo a due posti privato, perché non ci sono aerei di linea che atterranno sull'isola, quindi gli abitanti dell'isola non possono tornare a casa se non con gli aerei privati. E sono passato da vedere che loro a malapena riuscivano ad usare Whatsapp, perché l'unica cosa che prendeva piano, piano, piano era Whatsapp, neanche Facebook, quindi loro non avevano il gruppo Facebook dell'isola, ma il gruppo Whatsapp dell'isola. E li ho ritrovati che… Stavano su TikTok tutto il giorno… No, però chi giocava offline a Call of Duty ha scoperto la moda online. Ah, adoro. Giocava online tutta la notte. È bello. Tanta roba. Infatti è interessante. I colibri sono rossi su quell'isola, perché non hanno mai sviluppato il gene per diventare verdi. Tante specie che hanno le spine nell'entroterra, non hanno le spine. Ok? Tutta una serie di cose che hanno un posto unico. Se tu entri nell'acqua con la maschera vedi di tutto, se tu ti fai due bracciate inizi a vedere le foche intorno a te, perché là ci sono un sacco di foche. Bello. È assurdo. Sono un po' pericolose le foche? Sono un po' pericolosine, ma poi ti dico un po' di non toccarle, ma non perché sono pericolose, ma perché tu sei una persona che viene da fuori e hai tutta una biocosa diversa da loro. In genere ti dico che no. Finisci come i conquistadores con gli indigeni, gli dai l'influenza e le ammazzi tutto. Pensa che loro sono da là teoricamente a fare volontariato. Praticamente non mi hanno fatto fare niente, ma prima di fare volontariato devi scoprire l'isola mi hanno letto. Peccato che per scoprire l'isola mi avevo messo un mese, poi per mezzo mese ho fatto volontariato, però il grosso del volontariato è aiutarli a gestire le specie invasive. Poi chiaramente hanno rapporti con l'entroterra, hanno rapporti con l'entroterra e fanno di tutto. Qua o vai dritto in Giappone… Nel Pacifico non hai fatto niente? Nel Pacifico non ho fatto niente. Perché dov'è il Giappone in questa mappa? La mia conoscenza geografica comunque è abbastanza… Allora, questo è Giappone, Taiwan, dove ti piace? Qua abbiamo Filippine, Giappone, Taiwan, Cina… Vai, se ne vendiamo un po'... Sono tutti questi posti. Ok, vai. Uno degli aneddoti più strani di Taiwan? Allora, a Taiwan non ho tanta roba strana, se no durante il giorno del mio compleanno c'era Gay Pride, quindi ho festeggiato il mio compleanno al Gay Pride. Io non conoscevo nessuno, però io quando viaggio comunque spesso su Instagram magari degli italiani che vivono alla mia contatta, quindi c'erano un po' di studenti che ho incontrato là che mi hanno fatto girare, fare… E' stato molto bello, sono stato in mezzo a un sacco di gente… Invece… in Giappone? In Giappone non finita di cose strane, perché il Giappone è strano veramente. Daccene una di quelle sessuali, anche in Cina se vogliamo. No, di cose sessuali… Diciamo devo andare… la cosa più strana devo andare forse un po' più in qua, in Indonesia, tra l'Indonesia e la Thailandia, perché… questa è la cosa più strana che mi sia capitata in vita mia. Ok, vai. Mamma, spero che tu mi stai guardando questo video. Ho usato il preservativo. Ma nel volo… Se fosse quella la cosa più strana che avevi fatto. Ho usato il preservativo. Nel volo dalla Thailandia… No, scusami, da Bali alla Thailandia, Thai always, per tornare poi a casa, quindi io poi dalla Thailandia dovevo tornare a casa mia, una ragazza thailandese, io ero a Bali, lei da Bali sta tornando a casa, mi fa… prima di salire sul volo dove è il gate, è questo il gate, non è questo il gate, due cose, sì, va bene, saliamo. Sul volo si siede accanto a me, non era quello il suo posto. Da cosa nasce cosa… Facciamo sesso in aereo. Una cosa che io se la racconto la gente non ci crede. Entrati nel Mile High Club… Volo breve, perché Bangkok-Bali non è tanto, per cui… io sono stato brevissimo. Pessimo e brevissimo. Ci ho messo quanto basta per riuscire a finire, insomma. Esatto, capito, che il volo era di mezz'ora, e nel resto dei 29 minuti cosa hai fatto del volo? Esatto, più o meno è quella l'idea. E poi ho terminato il volo, come se non fosse successo niente, lei ha provato a dirmi, dai, non prendere il volo di ritorno a casa, tipo facciamoci un viaggio, una cosa… Probabilmente lei aveva una vita… E io ho detto, no, io devo proprio tornare a casa, anche perché costano 600 euro per tornare dalla Thailandia all'Italia, non è che posso perdere il volo. E quindi sono tornata a casa. E io questa cosa me la terrò sempre dentro, ma poi… Chi era questa? Boh… Esatto, chissà… Oggi magari pensa ancora a te. Io secondo me sì, secondo me lei… Io mi chiedo sempre se è una cosa che abitualmente gli piace… Ah, ecco, magari è seriale. Oppure se io l'ho conquistata. Secondo me chiudiamo la puntata con la convinzione che l'hai conquistata e che lei non ti dimenticherà mai. E tutto questo io ringrazio tantissimo Marcello Ascani per questa puntata, grazie mille. È stata veramente molto interessante e in realtà onestamente non vedo l'ora di scoprire anche tutte le altre cose strane e magari illegali che hai fatto in tutti gli altri paesi, ma quelle illegali non le diciamo in camera. Va bene. E qui niente, ti ringrazio tantissimo Marcello, andatelo a seguire su YouTube. Insomma ci vediamo alla prossima puntata. Grazie mille. Ciao.